Domenica la sezione mascalese di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale è scesa in Piazza Duomo con lo slogan Ripartiamo dagli esempi. Dopo gli avvenimenti che hanno convolto Mascali da oltre 18 mesi comune commissariato il segretario Alberto Cardillo propone ai cittadini una petizione popolare per intitolare la sala consigliare ai due ex magistrati Falcone e Borsellino ed una via o un parco a Giorgio Almirante, cofondatore del Movimento Sociale Italiano. E' chiaro che in un contesto come quello di Mascali, dopo tanti anni di mala politica, dopo le vicende giudiziarie che tutti conosciamo, c'è bisogno di segnali forti, c'è bisogno che ci sia una politica che sappia coinvolgere la gente c'è bisogno che la gente senta vicino un certo modo di fare politica. Cardillo ha infatti insistito sull'importanza di dare alla cittadinanza un esempio concreto di senso civico e dedizione alla giustizia e alla politica con l'obiettivo di non ricadere negli stessi errori. Grazie. 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 Grazie.